La realtà dei fatti che viviamo in un mondo così sordido e così pieno di stimoli negativi che già da ragazzini i bambini finiscono nella pornografia, nella masturbazione e spesso anche davvero prestissimo da giovanissimi nella pratica del sesso anche con o con ragazzini dello stesso sesso o con l'altro sesso. È un problema molto grave perché vedete avere un rapporto sessuale con una persona significa unirsi carnalmente a lei, significa sposare quella persona carnalmente evidentemente se è di sesso diverso perché non esiste matrimonio tra persone dello stesso sesso, proprio perché non c'è il coniugio carnale reale. Allora ma se questo avviene ma immaginate che disastro sarà quei ragazzini che hanno avuto tante esperienze che arrivano al matrimonio, come possono costruire un matrimonio nella fedeltà e nella purezza se hanno sguazzato nel fango, nell'impurità e si sono già sposati carnalmente con tante ragazzine o tanti ragazzini con tanti ragazzini. Perché è un segno quello nella carne che rimane, non è che ti fai il bidet ed è passato tutto, no è un segno che attraverso la carne ha un effetto anche nella nostra anima. l'unione carnale ha qualche cosa che attiene non solamente il corpo ma anche l'anima, due che divengono una sola carne. Una cosa straordinaria è l'unione d'amore se è fatta nella dimensione dell'amore che è bellissima nel progetto di Dio ma quando si esce dal progetto di Dio significa unire ciò che non doveva essere unito e poi quando invece ti unisci a colei o a colui a cui ti devi unire, cosa succede? Che hai ancora queste catene, questi legami, questa ruggine che rimane e che mette a repentaglio il tuo matrimonio perché questa è la realtà. Dio quando ha dato i suoi comandamenti non l'ha dato perché gli girava così per farci dispetto, lo ha fatto perché vuole il nostro bene e sa perfettamente che se noi viviamo del peccato mortale, se abbiamo dei peccati mortali è come se avessimo messo della dinamite alla base della costruzione della nostra vita, del nostro matrimonio che prima o poi scoppia e manda tutto a catafascio e questo è quello che avviene ormai la stragrande maggioranza dei matrimoni fallisce e ormai la stragrande maggioranza dei giovani non si sposa, vanno a convivere e altre cose di questo genere. Ma Dio sappiamo può fare nuove tutte le cose, davanti a Dio la più grande peccatrice che c'era lì con lui Maria Maddalena diventa la più grande amante di Gesù ma nel senso vero e profondo del termine, con lei che ama Gesù nella purezza, nella santità e diventa una santa strepitosa, quindi non abbiamo paura. Dio può perdonare se abbiamo affatto sesso prima del matrimonio e fuori del matrimonio e via di seguito? Ascoltate cosa dice questo bellissimo libro che vi consiglio vivamente per voi e per i vostri figli, per gli adolescenti di Jason Everett, l'esperienza dell'amore, le giuste risposte alle grandi domande degli adolescenti. Nella Bibbia una donna fu colta in adulterio e portata da Gesù, lui non la condannò ma la difese da coloro che la stavano giudicando e le disse di non peccare più, attenzione la misericordia a costo zero, non è che ah sì ti do la misericordia ma tutto bene, continua a fare le tue porcate, no, vai io ti perdono ma non peccare più, non dimenticatelo eh, no misericordia a costo zero. La sua misericordia è la stessa oggi, accostati al sacramento della riconciliazione e a quello dell'Eucaristia. Nella riconciliazione troverai la misericordia risanatrice di Dio, mentre nell'Eucaristia Dio ti darà il nutrimento spirituale attraverso il suo corpo e il suo sangue. Rivolgiti con tutto il cuore a Cristo e alla sua madre immacolata e ti faranno parte della loro purezza. Offri a Dio il tuo corpo e i tuoi ricordi, anche quelli sbagliati, cattivi, offri a Dio, permettendo a Lui di guarirti. Grazie all'infinita misericordia di Dio e al fatto che la purezza è un dono che viene da Lui, non è mai troppo tardi per diventare la persona che Lui ti chiama ad essere. Le misericordie di Dio non sono finite, non è esaurita la sua compassione, esse sono rinnovate ogni mattina, dice il libro delle Lamentazioni. Usando le parole di Madre Teresa il demonio potrebbe usare le ferite della vita e talvolta i nostri stessi errori per portarvi a credere che è impossibile che Gesù vi ami realmente. Quante volte ho sentito dire ma come può Dio perdonarmi per quello che ho fatto? Sappi una cosa, puoi aver fatto le cose più orrende, puoi aver anche commesso il crimine dell'aborto, ma Dio ti può perdonare se tu senti pentimento nel tuo cuore desiderio di cambiare vita. Dio cancella tutto, dimentica tutto e ti fa una persona nuova. È quindi il demonio che vuole portarci a credere che è impossibile che Gesù ci ami realmente e che voglia rimanere unito a noi. Questo è un pericolo per tutti noi ed è così triste perché è assolutamente il contrario di quello che Gesù desidera che sta aspettando di dirvi. Non solo vuole dirvi che vi ama ma molto di più di questo vi desidera ardentemente, gli mancate quando non vi accostate a lui. Attenzione a non accostarsi alla Santissima Eucaristia, attenzione a non accostarsi al sacramento della riconciliazione della confessione. Stiamo facendo soffrire ancora di più Cristo, prima col nostro peccato e poi con il nostro stare lontani da lui. Lui ha sete di voi, lui vi ama sempre anche quando non vi sentite degni, quando non vi sentite accettati dagli altri e talvolta da voi stessi. È lui l'unico che vi accetta sempre. Siete preziosi per lui. Mettete ai suoi piedi tutto quello che state soffrendo. Aprite il vostro cuore per essere amati da lui. Come siete? Sarà lui a fare il resto. Che parole bellissime queste di madre Teresa. Sono una speranza grandiosa. Guarda il tuo peccato e sappi una cosa. Gesù ti ama perché sei un peccatore, un peccatore che soffre del suo peccato, che chiede perdono a lui e vuole ritornare nella sua grazia. Ti abbraccia e ti fa tornare pienamente nella sua grazia. Se tu ti accosti ai sacramenti che lui ha istituito proprio per questo, non mancare.